Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale al consueto appuntamento con le news manga e non solo della settimana, come sempre di domenica mattina. Partiamo subito da alcune notizie interessanti per i fan di One Piece, di cui avevamo già parlato nelle news precedenti, ovvero quelle che riguardavano un possibile spin-off o comunque manga alternativo ispirato all'universo del manga di Eiichiro Oda. Il sito web ufficiale della rivista online Shonen Jam Plus della Shoei ha infatti recentemente svelato che a partire dal 18 giugno 2018 avrà inizio su quella stessa rivista online e anche sull'applicazione per smartphone dedicata un nuovo spin-off dedicato proprio a One Piece. Questo manga spin-off prenderà il nome di One Piece Kobinino Kobiyama Urifutatsu Nagino Ohio e l'autore si chiama Nakamaru. Il manga verrà serializzato anche attraverso il sito web ufficiale di One Piece. Quest'opera sarà una serie che è stata generata da un episodio autoconclusivo che l'autore Nakamaru ha pubblicato il 24 dicembre scorso su Weekly Shonen Jump. E per quanto riguarda la storia, questo spin-off è focalizzato su uno studente delle scuole medie che somiglia ad uno dei personaggi apparsi per la prima volta in One Piece e che ancora oggi è noto, ovvero Kobin. E quello che vedete nelle immagini è appunto il design del protagonista. E oltre a questo, l'ultimo numero di Saikyo Jump, un'altra rivista della Shueisha, ha svelato che One Piece ispirerà anche un altro manga, questa volta un crossover manga separato dall'opera originale di Oda, con il gruppo di youtuber Fishers. E questi youtuber saranno proprio nel manga, infatti appariranno nel mondo di One Piece. Semimaru Aborukoji disegnerà il manga, che inizierà il 3 agosto del 2018, sul numero di settembre di Saikyo Jump. Ma One Piece non si ferma assolutamente qui e infatti, in occasione del ventunesimo anniversario dell'opera di Eiichiro Oda, in Giappone, vede la luce proprio un parco acquatico, dopo ristoranti e altre mille amenità, dedicato a One Piece. Il parco acquatico di Iwaki City, infatti nella provincia di Fukushima, sta allestendo proprio delle attrazioni tematiche, che saranno inaugurate, immagino, quest'estate, dedicate a One Piece. Il parco, chiamato Spa Resort Hawaiians, darà il benvenuto dal 20 luglio ad un acquascivolo e a sessioni di battaglie con pistole d'acqua contro i pirati di Big Mom, una delle ultime nemiche che i pirati, appunto, di One Piece hanno affrontato nell'opera originale. Il parco allestirà anche chioschi che permetteranno ai fan di acquistare oggetti preziosissimi, ovviamente in superedizioni limitate fino al 31 agosto. Nelle news delle scorse settimane vi avevo parlato anche di un possibile nuovo manga da parte di Titekubo, nuova opera o quantomeno un capitolo autoconclusivo dedicato al mondo di Bleach, con alcune indiscrezioni che erano venute fuori. Durante l'annuncio di due nuovi artbook dedicati alla sua opera, che vedremo tra pochino, Titekubo, attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter, ha svelato un'illustrazione inedita di Ichigo. Il protagonista dell'opera. E guardando con attenzione questa maglia si può leggere chiaramente And Little Sequel, un piccolo sequel. Ovviamente quella brevissima frase ha scatenato, come sempre, migliaia di speculazioni tra gli otaku di tutto il mondo, tra i social Facebook, Twitter e qualsiasi altra cosa, e tutti hanno cominciato a sperare che in futuro Bleach possa avere un sequel, una nuova continuazione. Quindi chissà se questa sia una totale coincidenza o un piccolo messaggio non troppo nascosto in merito al futuro di Bleach da parte di Titekubo. E come vi dicevo, saranno messi in vendita anche in Giappone, il 4 dicembre del 2018, due libri di illustrazione e due artbook dedicati al mondo di Bleach. Questi due libri saranno contenuti in un cofanetto intitolato Bleach Jet, che costerà 17.280 yen, ovvero circa 135 euro. I due libri saranno cartonati e raccoglieranno complessivamente in 500 pagine 700 illustrazioni, tra cui troveranno spazio anche delle illustrazioni inedite, oltre a disegni a colori e a matita, che il maestro Kubo ha realizzato durante i 15 anni di serializzazione del popolarissimo manga Bleach. Star Comics ha fatto una live su Facebook, dove il suo publishing manager, Christian Posocco, ha fatto alcuni annunci interessanti, tra cui un nuovo volume scritto da Hiroiko Araki, ovvero il manga secondo Hiroiko Araki. Si tratta infatti non di un manga, ma di un saggio attraverso il quale l'autore di Jojo spiega cos'è per lui il manga e illustra le sue tecniche, e questo uscirà a dicembre. Ed è un volume che in verità puntavo da diverso tempo, sono molto molto contento che Star lo abbia annunciato. E poi Posocco ha continuato dicendo che la Eternal Edition di Sailor Moon è davvero vicina, vicina all'approvazione, approvazione per cui manca ancora uno step, e poi si potrà comunicare la data di uscita. L'edizione, secondo le parole di Posocco, sarà identica a quella giapponese. Nel volume comic Atsushi Kaneko Extra Work, in uscita il prossimo 27 giugno, è presente e tengono a far sapere da Star Comics un capitolo volutamente stampato fuori registro con pantone fluo arancio. Non è un errore di stampa, ma una scelta artistica dell'autore, presente anche nell'edizione giapponese. E questo ve lo posso confermare anche io, perché Atsushi Kaneko non è assolutamente nuovo a esperimenti del genere, già provati in suoi manga precedenti. E poi che ospiteranno un mangaka alla prossima Luca Comics, finalmente dopo un paio d'anni, se non sbaglio, che sono mancati ospiti giapponesi in casa Star Comics, o almeno di un certo livello, del quale hanno già avuto la conferma e con il quale stanno organizzando una serie di attività. E chissà che questo mangaka non sia qualcuno legato alle tematiche horror. Tra due settimane, un'altra live da parte di Star Comics. È ripreso dopo tantissima attesa il 6 giugno la serie manga Noragami di Adachi Toka, un duo di autrici note anche per Alive Evoluzione Finale. Noragami riprende finalmente la sua serializzazione sulle pagine della rivista Gekkan Shonen Magazine. E quella che vediamo è la bellissima illustrazione di copertina. Vi ricordo che la serie era ferma a tempo indeterminato dal maggio del 2017. Un annuncio molto molto importante, secondo me, arriva da Comixology e Amazon. È stato infatti annunciato che i titoli creator-round pubblicati sotto l'etichetta Comixology Originals saranno disponibili gratuitamente per gli abbonati Amazon Prime, Kindle Unlimited, Comixology Unlimited e disponibili all'acquisto su Kindle Comixology. Ma la parte più interessante di questo annuncio riguarda un nuovo programma di print-on-demand. Ogni utente potrà infatti prenotare una copia cartacea della serie che preferisce, che verrà quindi stampata e recapitata a casa direttamente tramite Amazon. Un annuncio che potrebbe essere, a dir poco, epocale, qualora ovviamente questo esperimento avrà il successo sperato sia da Comixology che da Amazon. Se dovesse aver successo, infatti, questa iniziativa porterebbe degli enormi cambiamenti sia per gli autori, sia per gli editori e per i rivenditori che non dovrebbero più preoccuparsi di materiale in venduto, né di fare magazzino, ma soprattutto nemmeno di arretrati o esauriti. Il CEO di Comixology, David Steinberger, ha inoltre rimarcato come la prima fase di questa iniziativa sarà estremamente sperimentale, dando l'opportunità sia ai rivenditori che ai lettori di variare la propria offerta e domanda. L'obiettivo è ovviamente quello di portare nuovi lettori sia nel mercato digitale che in quello tradizionale cartaceo. E le cinque serie Comixology Originals che fanno parte al momento del programma sono Savage Game di Rian Khalil, Sean Kittilson e Chris Murray, Super Freaks di Elsa Charretier e Pierrick Collinet con i disegni di Margot Saltel, Elephant Man 2261, The Death of Shorty di Richard Starking, Axel Medellin e Bo Cook, Ask for Mercy di Richard Starkings e Abigail G. Larding. Fatemi sapere qui sotto con un commento soprattutto cosa ne pensate di questa news. Nel corso della stessa intervista da cui abbiamo estrapalato alcune perle di Yoshiro Togashi proprio nelle news precedenti, l'autore ha parlato nel corso di questa chiacchierata con il suo editore Shueisha anche di altre importanti informazioni oltre che quelle sul finale dell'opera che abbiamo sentito nelle scorse news. A proposito delle ispirazioni dietro alla creazione di Hunter x Hunter e del motivo per cui il suo manga ha avuto successo in Giappone all'estero, il Sensei ha detto Questo potrebbe essere uno sgradevole modo per dirlo, ma all'epoca pensai che il mio prossimo lavoro avrebbe dovuto raggiungere il successo dal momento che stavo pubblicando su Jump. Ai tempi dell'ultima metà della serializzazione di Yu Yu Hakusho ho letto i commenti e i sondaggi dei lettori sistematicamente. Guardando e analizzando le dinamiche del momento e i piaceri dei lettori, ho compreso che le storie di combattimento e sportive andavano per la maggiore. Storie dove era chiara la distinzione tra vincitori e vinti. Pertanto ho pensato che se dovevo scrivere qualcosa di nuovo avrei dovuto creare un manga di combattimento. Il manga attualmente è fermo da marzo 2018, quando è stato pubblicato il capitolo 380 e al momento non si hanno notizie su una sua ripresa. La manga Karina Yagami di Goodbye I Love You tra le altre opere lancerà un nuovo manga. La nuova opera dell'autrice si intitola Waka Ate Kino Uba Uremashita e per celebrare il lancio di questa serie le sarà dedicata anche la copertina della rivista Shokomi della Shogakukan. Oltre a questo avrà una pagina a colori mentre il primo capitolo sarà composto da ben 52 pagine. Per quanto riguarda la storia seguiremo la vita quotidiana di un adolescente che si trasferisce a Tokyo e incontra una vita da sogni circondata da bellissimi giovani. E per un manga che inizia ce ne sono alcuni che si concludono. È il caso di Okitenemuru, Incubi a Occhi Aperti, una serie di Teori Renda in corso di pubblicazione anche in Italia da parte di Planet Manga. Sulle pagine del numero 12 della rivista Seinen Manga Action della Futabasha hanno annunciato che la serie manga Incubi a Occhi Aperti si concluderà il 3 luglio prossimo con il capitolo numero 73. La serie è in corso di serializzazione su manga action dal 21 gennaio 2014 e si compone al momento di 8 volumetti. L'uscita del nono volume è prevista per il 27 luglio e si conclude anche Alice in Marderland di Kaori Yuki. L'autrice è conosciutissima anche in Italia per Angel Sanctuary. L'autrice ha reso noto che ha intenzione di concludere il suo shoujo manga con il volume numero 11. La serie è in corso di serializzazione sulla rivista Aria della Kodansha dal 28 gennaio 2014 e a seguito della chiusura del mensile la serie si sposterà su Shonen Magazine Edge dal 17 luglio. Alice in Marderland racconta le vicissitudini di Stella, una ragazza che si ritrova coinvolta in un gioco mortale. Nata nella ricca famiglia Kwonji dovrà partecipare al Tea Party, un evento che la famiglia organizza ogni mese. Questa volta però, a seguito di un incidente, fratelli e sorelle sono riuniti e qualcuno spiega loro che dovranno uccidersi a vicenda. Il solo sopravvissuto diventerà il capo della famiglia. E si conclude anche Oshinengi Gaiden. È stato infatti annunciato sulle pagine del numero 27 di Weekly Young Jump che il manga di Ryu Fujisaki si concluderà con il settimo capitolo proprio nel numero successivo, il 28esimo, in vendita dal 14 giugno. L'opera era in corso dal 26 aprile e verrà raccolta in un unico volume, in uscita tra metà agosto e metà settembre. Mentre il 28 giugno, sul trentesimo volume della rivista, il maestro Fujisaki riprenderà l'adattamento della saga letteraria alla leggenda degli eroi della galassia. Questo manga, la leggenda degli eroi della galassia, è in corso dal 2015 e si compone di 10 volumi. Queste erano le news della settimana. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto con un commento e soprattutto lasciate un bel like. Condividete il video sui social, iscrivetevi al canale attivando le notifiche se ancora non l'avete fatto. Aprite il box informazioni che è pieno di info utili. Noi ci vediamo alla prossima e ciao! Noi ci vediamo alla prossima! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.